I 150 anni dell'Unità d'Italia sono probabilmente un'occasione, un'occasione per ragionare sulla storia degli italiani, per dare loro il senso di un percorso, di un'appartenenza a una comunità, la comunità nazionale, di una identità, di una storia. Questa mostra ha questo scopo, di riflettere insieme a tutti coloro che verranno a visitarla su che cosa è stato il cammino degli italiani negli ultimi 150 anni. In particolare è probabile che si possa ragionare insieme su che cosa ha tenuto insieme gli italiani e che cosa non è riuscito a tenere insieme gli italiani. La mostra non è dedicata alla storia d'Italia, è dedicata agli italiani, a come gli italiani hanno vissuto insieme questi 150 anni nei loro periodi di luce e nei loro periodi d'ombra. Ci sono stati periodi migliori e fasi peggiori. Oggi probabilmente è uno di quei periodi in cui non è inutile riflettere sulla nostra storia. La mostra propone 15 aree tematiche, 15 argomenti, 15 temi che hanno connotato la storia italiana. come gli italiani hanno vissuto il loro decollo industriale, come gli italiani hanno vissuto il loro momento preunitario e il passaggio all'unità. Che cosa è stato il risorgimento? Come gli italiani hanno vissuto dei periodi difficili in cui l'emigrazione, per esempio, è stata l'unica soluzione per molti italiani, cioè abbandonare l'Italia. Come gli italiani hanno consumato, se i consumi sono stati un momento di unificazione degli italiani oppure no. Come gli italiani hanno partecipato dell'opinione pubblica, come hanno costruito l'opinione pubblica in Italia, leggendo, partecipando ai dibattiti che la politica ha offerto loro. Quindi come i mezzi di comunicazione di massa hanno influenzato gli italiani, come li hanno costruiti e allo stesso tempo come i grandi partiti di massa, le organizzazioni politiche, hanno agito sulla identità degli italiani. Le guerre. Che cosa hanno significato nella storia degli italiani le guerre? La prima guerra mondiale è stato un fattore di unificazione degli italiani oppure no? Noi pensiamo di sì che la prima guerra mondiale, tragica, abbia tuttavia fortemente contribuito a rendere simili, ad avvicinare, a fare incontrare gli italiani. La seconda guerra mondiale è probabilmente molto meno. Nella sua drammaticità è stata, per certi versi, un elemento di forte divisione degli italiani, che hanno vissuto in modo diverso, al nord dal sud, ma anche fra coloro che hanno aderito al fascismo e coloro che lo hanno combattuto, uno stesso avvenimento drammatico, la guerra per l'appunto. Come gli italiani ne sono usciti? Qual è stato il ruolo della Costituzione? Come e in che misura è ancora oggi attuale? Qual è sostanzialmente il tessuto unitario oggi di questa Italia abitata dagli italiani? Hanno ancora voglia gli italiani di essere uniti? Hanno voglia di essere più uniti di prima? Quali sono gli stati d'animo degli italiani? Questa mostra vorrebbe contribuire ad aiutare gli italiani ad avere coscienza di sé e a ritrovare per sé una ragione per andare avanti come una comunità il più possibile coesa. La mostra è una mostra fortemente interattiva. La parte multimediale è prevalente. non è una mostra di tipo museografico, non è una mostra che esibisca cimeli, ci sono naturalmente degli oggetti, ma la mostra è fortemente connotata dalla multimedialità e dalla interattività. Lo spettatore sarà protagonista delle notizie che vorrà cercarsi, lo spettatore avrà la possibilità di approfondire i percorsi che riterrà più interessanti e di avere, per così dire, un suo percorso privilegiato. La mostra viene allestita in una delle ali delle ex officine grandi riparazioni delle ferrovie dello Stato, le cosiddette OGR, e avrà un'ampiezza di circa 10.000 metri quadri. Ci sono due modalità. La prima modalità è un'accoglienza che introduce il visitatore ad un confronto fra come gli italiani erano quando questo processo di unificazione è iniziato e a come gli italiani sono oggi. Diciamo che c'è un quadro che fa il confronto fra come eravamo e come siamo. Dopodiché il percorso si snoda in parte cronologicamente, cioè seguendo le date della nostra storia e gli avvenimenti principali della nostra storia, dagli anni 40 dell'Ottocento fino ad oggi, fino ai giorni nostri. Tutte le date più celebri, tutti gli avvenimenti più importanti, quelli che hanno segnato i momenti di unità o di disunità degli italiani saranno ricordate, rappresentate con materiali filmati, con fotografie, con documenti iconografici, cioè con quadri, con sculture o con oggetti che in particolar modo si riferiscano ai temi trattati. Dopodiché ci saranno, accanto a questo lungo percorso cronologico, delle stazioni, delle aree dedicate a temi specifici in cui, di nuovo, si legge la storia degli italiani relativamente a quel tema che viene trattato in quell'area specifica. Ci sarà una storia della industrializzazione italiana, una storia dei mezzi di comunicazione di massa, una storia dei grandi partiti e delle associazioni, una storia dell'emigrazione, una storia della prima e della seconda guerra mondiale, una storia del fascismo e della resistenza, una storia sostanzialmente che ricostruisca l'identità del popolo italiano fino ad oggi. Un'ultima area riguarderà il volto dell'Italia di oggi, degli italiani di oggi e in particolare ci saranno delle dissolvenze verso un futuro che ancora noi non conosciamo ma di cui intravediamo le linee di tendenza. Sarà la fotografia finale di come gli italiani sono oggi che darà la possibilità a tutti coloro che visiteranno la mostra di misurare la differenza, il percorso fatto insieme in questi 150 anni.